A Parigi un uomo armato di coltello ha tentato di aggredire un gruppo di militari vicino al Carousel de Louvre, non lontano dal Museo de Louvre. I soldati, dispiegati nell'ambito dell'operazione antiterrorismo Sentinelle, hanno reagito aprendo il fuoco e l'aggressore è rimasto gravemente ferito. Secondo la polizia avrebbe gridato all'Aouak Bar, ma non aveva esplosivi con sé. Per il Ministero dell'Interno si tratta di un tentativo di attacco terroristico.